Grazie. Che cosa andiamo a vedere oggi? Dunque è una settimana ricchissima, il calendario delle uscite è arrivato finalmente a una tappa significativa della stagione, è passata la mostra di Venezia, abbiamo le prime uscite importanti di film inediti, non di fondi di magazzino come siamo stati abituati a vedere quest'estate, ma effettivamente film nuovi provenienti dai festival del resto dell'anno, a cominciare dal primo film che andremo a menzionare. Ma soprattutto è la settimana di Dune. È la settimana di Dune che ha voluto aspettare che anche i cinema fossero un po' più tranquilli con la loro riapertura, perché ricordiamo che se anche adesso si volta pagina, si esce dall'estate e si ritorna al cinema, questi ultimi hanno sempre il problema del Green Pass. Quindi mi raccomando, ricordatevi che se volete andare al cinema dovete avere il Green Pass e per avere il Green Pass bisogna essere vaccinati. Questa cosa potrebbe ancora dare scompiglio in qualche situazione, però da quanto sappiamo, almeno qui a Genova, è tutto organizzato abbastanza bene. Io sono già dato al cinema un sacco di volte e sono riuscito a vedere qualche pellicola interessante che andremo a vedere adesso. Però il primo film di cui parliamo oggi è Il gioco della fortuna del destino. Più o meno. Il gioco del destino e della fantasia, ma è un problema della... C'è stata una traduzione un po'... una discussione, vero? Sarebbe stato molto più semplice forse tradurre il titolo giapponese originale, che è invece Coincidenza e Immaginazione. Il titolo internazionale invece è Will of Fashion and Fantasy, che è stato tradotto un po' più liberamente in italiano. Il film è di Ryusuke Hamaguchi, un giovane regista che a me piace tanto, qua alla quinta pellicola. André, perché questo film è interessante? Ryusuke Hamaguchi è un nome che quest'anno si sta facendo molto sentire nel circuito dei festivali internazionali. Basti pensare che quest'anno è riuscito a piazzare due pellicole molto importanti e ad aggiudicarsi due premi, sia a Berlino, sia a Cannes, dove inizialmente era addirittura dato come favorito. I film in questione sono per l'appunto Il gioco del destino e della fantasia e Drive My Car, che invece uscirà settimana prossima e che andremo ampiamente a dibattere. Già il nostro inviato sul campo, Marco Romagna, da Cannes, ne aveva dato ampia descrizione, parlandoci come uno dei film più importanti della Lassegna. Finalmente, la settimana prossima avremo, spero, occasione di vederlo grazie a Tucker Film. Sempre Tucker Film distribuisce il suo film precedente di a pochissimi mesi prima, che appunto è Il gioco del destino e della fantasia, che è un titolo molto interessante per introdurci all'arte di Ryusuke Hamaguchi, che è un nome che è stato accostato molto spesso e, a mio parere, ha ragione a due nomi fondamentali per quanto riguarda il ruolo della parola al cinema, e cioè Eric Romare e il più giovane, il più contemporaneo coreano Hong Sang-so. Lui, diciamo, che segue esattamente questa scia qui, nel senso che sì, è un cinema meno ricercato dal punto di vista della messa in scena, anche se le sue soluzioni di regia sono spesso molto funzionali, con un alternarsi di primi piani, insomma, i campi, l'intreccio di campi... insomma, è un cinema molto funzionale alla parola, i dialoghi dei suoi film sono sempre estremamente ricercati, estremamente fondamentali, questo lo vedremo soprattutto appunto in Drive My Car, che fra parentesi si è giudicato proprio il premio alla sceneggiatura a Cannes, quasi un contentino. Questo film è un film che in realtà è un portmanteau, è un film composto da tre episodi slegati, accomunati soltanto da un tema ricorrente di Robert Schumann al piano, sono tre episodi totalmente distaccati che hanno in comune la complessità dei rapporti umani. Dunque, essenzialmente sono film molto semplici, quasi impossibili da descrivere per quanto sono basilari. Sono tre episodi da 40 minuti l'uno, i primi due girati prima della pandemia e il secondo, e il terzo invece, a pandemia già in corso. Sono trame molto semplici, che so, ad esempio una ragazza che si confronta con il suo ex fidanzato dopo che ha scoperto che la sua assistente è la sua nuova compagna, oppure ancora uno studente universitario che cerca di vendicarsi del professore, un scrittore di fama nazionale, che l'aveva umiliato pubblicamente, oppure l'incontro fra due persone che si rivedono in uno scenario quasi distopico, con una specie di virus informatico che si è impossessato del mondo, si rincontrano dopo tanti anni, ma poi invece scopriamo che queste due persone sono due strane, si sono riconosciute ma in realtà si sono confuse l'una con l'altra. E' un cinema estremamente votato appunto all'uso della parola, un cinema per cui ci vuole sicuramente molta pazienza, tant'è che i tre episodi sono slegati anche proprio da un punto di vista quasi qualitativo, il terzo episodio per dire è clamorosamente migliore rispetto agli altri due, ma comunque dà sicuramente un'idea di quello di cui Amaguchi è capace. Questa capacità, come per Romare, viene automatico pensare a Incontri a Parigi, anche esso un film in tre episodi girato da Romare negli anni 90, dove si parla appunto della complessità dei rapporti umani, dei rapporti sentimentali, dei rapporti romantici e così via. Il mio consiglio è di andare a recuperarselo ancora per qualche giorno al Film Club, perlomeno fino a giovedì rimarrà in sala. Correte a vederlo in attesa di vedere Drive My Car. Quando uscirà Drive My Car? Settimana prossima e speriamo, perché in realtà i film, le uscite di settembre sono tantissime, le sale aperte non sono ancora tutte quante e speriamo che riesca a trovare un posticino da qualche parte. Vabbè, avrete l'occasione con due film di recuperare metà della filmografia di Amaguchi, tra l'altro due pellicole meravigliose. L'altro film invece, adesso in sala, è Supernova. Questo Supernova che in realtà è del 2020, ha già un anno ed è di un regista veramente giovane, questo Harry McQueen che ha esordito qualche anno fa e adesso è tornato, con questo melò, con Stanley Tucci e Colin Firth e protagonisti. questa storia d'amore, questa storia d'amore non spoileriamo, però ovviamente a sfondo comunque drammatico. C'è questa malattia che è appunto l'Alzheimer che perseguita il protagonista Stanley Tucci e il coprotagonista cerca comunque di seguirlo, avvicinandogli il suo amore, il suo affetto, in una vacanza in questa landa inglese meravigliosa, perché visivamente comunque il regista ha trovato comunque delle location molto belle, questi laghi, questi boschi, che comunque rasserenano molto la vista, data comunque la drammaticità della storia. Poi c'è la supernova del titolo, quindi questo riferimento al cielo, alle galassie, che comunque, essendo comunque infinito, la meraviglia, la magia dell'universo, comunque fa parte sempre di noi e noi siamo un'unica materia che resterà sempre legata. Questo è l'altro film in sala, abbiamo un'interpretazione comunque sempre ad alti livelli dei due protagonisti, ma io mi sarei aspettato qualcosina di più. Diciamo che i due nomi superano un po' i personaggi che interpretano, quindi diciamo che Stanley Tucci e Colin Firth non fanno altro che non scimmiottare, però comunque avvicinare un discorso allo spettatore anziché incarnarlo al 100%. Bisogna anche riconoscere che c'è un film, The Father, che affronta lo stesso tema, in un contesto diverso, perché parliamo nell'anziano, con la famiglia, eccetera, però è tutto di un altro livello, anche la struttura narrativa è veramente di altro livello. Qua è un film molto più leggero. A me non ha soddisfatto al 100%, però comunque se volete passare un'ora e mezza, perché dura veramente poco, anche un filo meno di un'ora e mezza, è una struttura veramente lineare e comunque un po' di emozioni le regalano sempre i due grandi attori. È l'occasione giusta per vedere due performance notevoli, però il problema che ho riscontrato io, dimmi tu se sei d'accordo Ale, proprio che quasi cozzino l'una con l'altra, nel senso che noi sappiamo, anche da interviste e quant'altro, che Firth e tu ci sono amici da quasi 20 anni. E l'idea è quella che questa amicizia, fuori dal set, aiuti a rendere credibile il rapporto che loro due hanno nel film. A mio avviso, forse rischia di essere quasi controproducente alla veridicità del film. Sì, io sono d'accordo perché anche se loro sono bravi, alla fine non riescono a uscire dalla loro personalità, di attori, non di personaggi. Purtroppo si vede che le loro occhiate, non hanno messo in discussione i loro personaggi, non hanno costruito nulla. Diciamo che ognuno ha pensato un po' agli affari suoi, almeno così sembra, stiamo anche scherzando. Ti dirò di più. Inizialmente era previsto che uno interpretasse il ruolo dell'altro e viceversa. In realtà era tu che interpretai le persone di Firth e viceversa e poi da successive provini, successive audizioni con il regista si è deciso di invertire i ruoli. Secondo me anche in questo senso c'è stata confusione nell'attribuzione dei due ruoli e nella credibilità di loro due. È comunque un film con cui passare un'ora e mezza di sentimenti sinceri, perché alla fine è un film, tutto sommato, abbastanza sincero. Gli manca, secondo me, quella gravità, se quella impostazione rigorosa, come potevano essere, sempre rimanendo in tematica queer, i film di Andrew High, se ricordi Weekend, o anche 45 anni, qua non siamo più in ottica queer, però comunque sui rapporti umani, Andrew High è un altro giovane regista britannico, aveva offerto molto di meglio. Questo è comunque un film che, insomma, se volete vedere due attori con cui siete familiari, interpretare una storia semplice che scalda il cuore e che, tutto sommato, non va molto troppo in profondità, mi sembra l'occasione giusta per andarlo a vedere. E poi le tematiche affrontate però potevano essere rimpolpate anche un po' di più, data l'occasione che c'era attraverso la trama, però le tematiche, come abbiamo detto, sono molto sottili e, beh, scivolano via. Sì, ecco, sottile è proprio la parola giusta. Non superficiale, ma quantomeno sottile. Anche la retorica c'è, però è sottile. Sì, sì. Cambiamo completamente argomento e passiamo invece al mastodontico film della settimana che sono mesi che se ne parla, che lo si aspetta anni. Da quando è uscito il primo, nell'84, si pensava già a un remake, perché purtroppo... È avvenuto molto bene. La facciata commerciale e produttiva che aveva il primo Dune, perché si chiama Dune il primo. Sì. E lo chiamano. Dune, se vuoi, anche. Dune? Dune, francese sarà Dune, sì. Il primo aveva la traduzione nel film Dune, che adesso invece ritorna al cinema, ma non è esattamente remake, perché questo è una produzione, stiamo parlando ovviamente di Dune di Villeneuve, adesso in sala, produzione enorme, molto più lungo del precedente, ma più breve come trama, perché racconta meno, meno libro, possiamo parlare, passami il termine, Andre. Oggettivamente è così. Però, io purtroppo non l'ho ancora visto, e questa sera, al massimo domani, sarò in sala a gustarmelo. Ho sentito critiche di tutti i livelli, di tutte le posizioni, positive e negative, finale tronco, gli attori, il cast, la tecnica, il ritmo, ma tu hai osservato una cosa, il rapporto che ha con il libro, perché molti spettatori comunque hanno voluto leggere, è un po' l'effetto del Signore degli Anelli, c'è stato questo ritorno alla narrativa e al recupero del libro. Hai fatto proprio l'esempio giusto, penso che come operazione produttiva sia paragonabile esclusivamente a quella della trilogia di Peter Jackson, proprio in quanto a fedeltà all'origine letteraria e in quanto a largo respiro, tant'è che appunto il finale Monco in un certo senso va a ricalcare quello che era la fine della Compagnia dell'Anello, solo che lì c'era una cesura netta già nella materia letteraria, qui in realtà no. Il film di Denis Villeneuve è lo spartiacque forse di questa nuova era di Colossal, è il film che in un certo senso scommette sul destino del cinema su larga scala. È una cosa che in un certo senso mette un po' di terrore, perché quello che sarà del cinema da larghissimo budget in poi dipenderà dal successo di questo film. E visto che il film dovrà uscire in America soltanto fra un mese, è ancora tutto quanto molto da stabilire. Ricordiamo che esce esattamente al cinema che sulla piattaforma HBO, quindi molta gente magari preferirà il divano per la visione di questo film, però basta vedere le immagini del trailer uno non può vederlo in formato ridotto. No, anzi, qui voglio dire abbiamo abbiamo una sala iSense a luci fiumara che ci permette di vederlo con un sistema un po' migliorato o quantomeno sul profilo visivo. Le poltrone hanno vibrato? No, forse per l'eccitazione del pubblico, ma non proprio come meccanismo in sé e non abbiamo questa immersività nelle sale di Genova e provincia, ma comunque sicuramente una sala iSense o meglio ancora iMax, di cui purtroppo qui non disponiamo, ma aiuterà sicuramente la visione. Però ecco, il problema è proprio l'uscita simultanea in sala e in piattaforma, perché d'altronde se hai l'occasione di vedertelo a casa, sul divano, in mutande, perché devi pensare di vestirti, uscire, prendere la macchina, fare benzina, parcheggiare, pagare il biglietto intero quando puoi vederlo da casa. È un ragionamento spietato, ma purtroppo molti inevitabilmente lo metteranno in atto. Quindi è questo il più grande pericolo che ammanta, un film che chiaramente è fatto per essere visto su larga scala e che a mio avviso va davvero visto per capire la condizione del colossal del nuovo millennio e di quello che eventualmente sarà. Il film di Villeneuve, come dicevamo, ha un respiro molto più ampio rispetto al precedente di Lynch dal punto di vista della durata, perché ormai è la durata canonica di due ore e quaranta, come qualunque colossal che si rispetti, ma in realtà affronta soltanto metà del primo libro, tant'è che nei mercati internazionali e anche alla mostra di Venezia è stato proiettato, non dico nel disappunto generale, ma insomma con un certo con un certo brivido come di un part one. Questo è di un parte prima, anzi sarebbe quasi da dire primo tempo, perché il film si interrompe praticamente come se stesse finendo il primo tempo. La trama è quella che penso che ormai conosciamo più o meno tutti, cioè quella di due famiglie rivali alla fine dell'undicesimo dell'undicesimo millennio, siamo nel 10.191, le famiglie Arconnen e la famiglia Atreides che si contendono il pianeta Arrakis, conosciuto anche come Diuna, dove cresce appunto questa sostanza psicotropa, questa sostanza in grado di garantire viaggi interstellari e di garantire anche poteri sovrumani, conosciuta come la Spezia, che non è l'omonima città della nostra regione, ma è appunto questa sostanza preziosa che è considerata la più preziosa dell'universo. Una trama che fondamentalmente poi ha affunto, ha fungiuto, ha affunto, sì, affunto da spunto anche a tutta la fantascienza successiva. Ricordiamo che il romanzo esce a metà degli anni 50 e quando, 20 anni dopo, George Lucas di Resse, Guerra Stellari, Frank Herbert, l'autore della saga e dei romanzi, disse dovrò fare tutto il possibile per non fare, per non denunciare Lucas. Perché in effetti mia moglie lo definisce quasi una specie di Game of Thrones nello spazio. È per certi versi giusto, ma secondo me la definizione più corretta è che Dune è fondamentalmente Star Wars con la droga. E quindi diciamo che l'ambito è questo, cioè due famiglie che si contendono una sostanza, un punto, questo è quello che è. Il film vive di un respiro ampissimo, di grandi spazi, di campi lunghissimi, di tempi dilatati, perché comunque appunto affronta un materiale di 200-250 pagine, la metà del romanzo appunto, nell'arco di 2 ore e 45. Quindi è un film che si prende i suoi tempi. Non è sicuramente la tempistica del colosso contemporaneo in stile cinefumetto, in realtà appunto è un film che è un'esperienza più immersiva, però diciamo che è un film che a differenza del film di Lynch forse ha meno fascino, non possiede il fascino sbilenco, quell'imperfezione misteriosa che poteva avere l'esperimento di Lynch che per quanto oggi sia oggetto di rivalutazione sulla scia dell'uscita di questo film rimane comunque un film che non ha contentato nessuno e che lo stesso Lynch oggi disconosce di cui non vuole parlare nelle interviste. Questo è un oggetto molto più tradizionale dal punto di vista dello spettacolo perché è un film classico, un film abbastanza freddo, abbastanza minimale anche nelle scelte estetiche. Ci sono dei grandi momenti di cinema, pensiamo appunto all'attacco di casa Arkonnen contro la casa Trades sul pianeta Dune che per certi versi ricalca quasi come immaginario con questi attacchi, questi missili a grappolo, ricorda un po' l'immaginario dei filmati che abbiamo visto sulle due guerre del Golfo negli anni 90 quella è la guerra al terrore di vent'anni fa ed è proprio questo il punto in cui Dune diventa di stretta attualità perché diventa quasi una specie di allegoria del colonialismo laddove i Fremen che sono il popolo autoctono del pianeta Dune nel film di Lynch rimanevano sfocati, rimanevano dei personaggi da sfondo poco più che degli aiutanti dell'eroe qui sono il fulcro emotivo del film sono il popolo assoggettato sono i popoli medio orientali di oggi che si ritrovano ad avere dei dominatori a turno che sfruttano le loro materie prime e devono in qualche modo ovviare a questa situazione di subalternità quindi il discorso di attualità si pone proprio qui ma è quasi riduttivo trovare in Dune un film che parla dell'oggi perché è proprio un film che a livello di immaginario a livello di estetica colpisce perché è qualcosa che davvero non abbiamo più nell'immaginario contemporaneo della fantascienza dell'action un film contemplativo ma che sa anche trovare quello spazio per l'azione pura che difettava nel film di Lynch che era stato appunto il punto debole del film di Lynch la mancata azione la mancata dinamicità sì è una pellicola purtroppo grezza quella di Lynch lo era quando è uscito adesso è una si può dire che è una pellicola che essendo magari sotto l'occhio dello spettatore ricontestualizzata rivalutata oggi può uscirne comunque con un diverso smalto insomma perché no diciamo che comunque portando un film con una trama comunque monca perché anche quello di Lynch si fermava e non portava avanti la storia insomma siamo sempre qui sospesi nel vedere se proseguiranno tra l'altro come serie o come film perché ancora non è ufficiale esatto la parte 2 se sarà al cinema oppure in formato serie televisiva ma io ti devo dire una cosa una piccola parentesi perché non vedo perché gli episodi delle serie televisive di alcune serie non possono essere comunque trasmessi al cinema almeno in alcune sale dei multisala una sala dei multisala può essere adibita agli episodi della serie io vedere un episodio al cinema insomma abbiamo avuto degli esempi con prodotti nostrani Sherlock Holmes con Cumberbatch quello era proprio un episodio concepito per il cinema se non mi ricordo male la fattura però era comunque televisiva però credo che fosse proprio un prodotto destinato alle sale mi riferivo soprattutto episodi di Gomorra romanzo criminale che ricordo che l'anno scorso erano stati proiettati appositamente come anteprima se non sbaglio probabilmente come anteprima adesso non mi vorrei sbagliare però sì c'è stato il tentativo io purtroppo sono un fautore e un sostenitore del lungometraggio del cinema come forma pura quindi non so se effettivamente riuscirei a concepire il cinema come un ostello per le serie televisive non lo so il fatto sta che appunto il destino di Dune è ancora tutto quanto da vedere sarebbe davvero un peccato vederlo traslocare sul piccolo schermo anche perché sono moltissime le cose lasciate lasciate aperte a cominciare dal fatto che a differenza della versione di Lynch non compaiono i personaggi dell'imperatore e quarto che nel film di Lynch era se non mi sbaglio cosa è Ferrer la principessa Irulan che era Virginia Madsen manca uno dei personaggi iconici del film di Lynch il Feidrauta di Sting un personaggio che credo che tutti si ricordino è che appunto pensiamo agli Arconnen del film di Lynch sono forse personaggi che maggiormente si ricordano nell'immaginare più della stessa famiglia Traides più dei personaggi di supporto alla famiglia Traides e difettano proprio in questa versione qui secondo me sono resi in maniera molto più subliminale per dire laddove il barone Vladimir Arconnen del film di Lynch era questa presenza funambolica sopra le righe questa specie di obeso pustoloso che fluttuava che fluttuava nell'aria e circuiva giovinetti riproporre oggi un personaggio del genere proprio per esplessa richiesta della Warner Brothers sarebbe stato molto problematico quindi si è deciso invece di renderlo come una specie di colonnello Kurtz che agisce nell'ombra che viene inquadrato di sottecchi si passa la mano sulla pelata e parla sottovoce esattamente come il colonnello Kurtz di Apocalypse Now oppure anche ricorda un po' la figura del Mussolini ahimè comunque parliamo sempre di un gerarca militare esatto parliamo di un dittatore quindi l'immaginario è proprio quello una scelta stereotipata però non sbagliata e infatti secondo me un po' ci perde cioè laddove c'era questo gusto per l'eccesso della famiglia Arconnen che era il punto di forza e finire in cui un po' ci perde lo stesso le Bene Gesserit questa questa sistema matriarcale di sacerdotesse con pelata in bella vista questa presenza fantasmatica qui è resa in maniera molto più sotto le righe abbiamo Charlotte Rampling che interpreta la madre superiore delle Bene Gesserit coperta da un velo si distingue a malapena il profilo una presenza sicuramente sicuramente carismatica come sempre Charlotte Rampling però diciamo che ci ricorderemo molto di più le Bene Gesserit dell'originale la stessa Lady Jessica la madre del protagonista che ricordiamo nel fin di lì c'è Francesca Hannis questa questa presenza così così elegante così signorile e qui chiaramente in ottemperanza con i tempi di oggi si è preferito un immaginario un po' più moderno la donna forte la donna guerriera in questo caso Rebecca Ferguson che abbiamo visto anche in un sacco di film action a cominciare dagli ultimi Mission Impossible l'abbiamo vista come antagonista in Doctor Sleep e quindi anche in questo caso quando ripensemo le di Jessica a mio avviso ci ricorderemo più questa presenza davvero fiabesca come quella di Francesca Hannis invece tutto il resto del comparto personaggi qui ci guadagna molto disgraziatamente Timothée Chalamet che è un attore che inevitabilmente divide che ha molti dettatori molti ammiratori è ancora giovane è giovane si farà si ma è carismatico e qui disgraziatamente per quanto io non lo tolleri per certi versi qui è ci sta bene è perfetto cioè non riesci a immaginarti quasi più il Kyle McLachan dell'originale che ricordiamoci insomma si va bene era un pezzo di Marcantonio che interpretava un quindicenne qui in un certo senso va bene che neanche Chalamet ha più quindici anni ma ha quel quel fascino effebico quella presenza adolescenziale che lo rende credibile ed è comunque un attore inevitabilmente capace in quello che fa e qui è davvero perfetto è il poll che forse tutti quelli che hanno letto i romanzi di Herbert si sono sempre immaginati ma anche tutto il resto degli attori Oscar Isaac come Ducaleto è bravissimo anche lui Josh Brolin come Gurney Haddock anche il povero Jason Momoa che non è sicuramente quel grande interprete è perfettamente funzionale nel ruolo di Duncan Idaho Javier Bardem che interpreta il leader dei Fremen Stilgar poi Bautista a proposito di che Bautista ci sta voglio dire appare poco perché in fin dei conti sono tutti personaggi che tranne Momoa e Isaac che hanno un minutaggio un po' più consistente appaiono per lo meno in questo capitolo per una decina di minuti non di più anche perché appunto il personaggio della bestia Rabanne di Stilgar sicuramente avranno molto più peso come nel romanzo nella seconda parte ok due parole invece sul reparto tecnico voglio sapere degli effetti speciali sono veramente strepitosi dal punto di vista proprio dell'estetica le scene d'azione le tecnologie è davvero un passo in avanti clamoroso anche se si pensa al film di Lynch che si veniva già da un'epoca in cui gli effetti speciali erano già stati molto migliorati ma se ricordiamo che so i duelli al coltello nel film di Lynch sembra di vedere quasi una demo di Minecraft con queste specie di blocchi geometrici qui è tutto reso molto più minimal ecco in pieno spirito vilneviano che non ne sono un grande amante devo dire la verità però è proprio la persona perfetta per dirigere uno film del genere con questo immaginario con questa con questo approccio un approccio minimal in tutto nell'apparato tecnologico perché per dire gli scudi qui sono resi con dei semplici vibrazioni a fior di pelle quasi le astronavi tutte le componenti tecnologiche sono resi in maniera molto minimal non c'è questo gusto barocco o decadente come poteva esserci nel film di Lynch è tutto molto sotto controllo ed è una cosa che da Villeneuve che ha sempre cercato il respiro e l'afflato epico nei suoi film precedenti e soprattutto anzi esclusivamente dalla svolta mainstream da Sicario in poi questo respiro epico che male si adattava quasi ai suoi film precedenti pensiamo ad Arrival che in un certo senso era quasi una brutta copia del Nolan di allora un film che più che epico risultava tronfio e a mio avviso anche in difetti di cui soffriva anche Blade Runner 2049 che era sicuramente un esperimento interessante però diciamo che il film di Ridley Scott aveva una dimensione intima una dimensione molto più personale senza andare a toccare massimi sistemi era un film molto più semplice che invece Ridley Scott che invece Villeneuve nel suo sequel ha gonfiato a partire dalla durata le solite due ore 40 a cui ci sta abituando da diversi anni che non si adattavano molto allo spirito originario rendevano quasi i romanzi di Dick più vicini a quelli di William Gibson quindi è una specie di di equivoco quello che si crea che si è creato nei film presenti invece con Dune Villeneuve trova proprio la materia che riesce a gestire meglio in parte anche grazie al contributo di Eric Roth alla sceneggiatura che è uno degli sceneggiatori più importanti di Hollywood pensiamo a Insider di Michael Mann a Munich di Steven Spielberg quindi una penna che è molto funzionale all'azione pensiamo a un film di azione ma anche fortemente di cervello come Munich e che qui davvero sul piano della scrittura funziona davvero benissimo e Villeneuve come dicevo trova la cosa che sa fare meglio a mio avviso quel respiro epico quel senso dell'epica della grandiosità della maestosità che trova pane per i suoi denti una grande saga letteraria fantascientifica che è proprio quello che lui sa fare meglio allora cercate di andarlo a vedere questo colossal che adesso sappiamo che anche se non è uscito in America in Europa o comunque nel mondo sta incassando abbastanza è già a quota 40 milioni quindi gli auguriamo ovviamente di avere un buon incasso anche in America così almeno possiamo continuare a vederlo al cinema da noi sta andando molto bene 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 ha già sfondato la parete dei due milioni di euro di incasso mi sembra comunque sta andando molto molto bene e gli unici problemi che potrebbe avere sono appunto quelli del finale qualche discussione sul ritmo però bisogna riconoscere che se si parla di un'opera un racconto del genere non si può farlo in un'ora e 40 o comunque con una una produzione spicciola si parla molto bene di questo film purtroppo resta sempre una prima parte quando si parla di prime parti c'è sempre questo punto di domanda finale perché manca sempre la la conclusione esatto ma l'ultima domanda riguardo a Dune è più per i fan per i fantascientifici o i fantasy allora l'immaginare è quello fantascientifico ma in realtà la narrazione è quella del fantasy quindi secondo me è in grado di bilanciare i due i due pubblici ricordiamoci che è proiettato al circuito cinema nella sala corallo e all'odeon correte a vederlo è l'occasione buona per riconciliarvi col cinema delle grandi dimensioni il cinema da grandissimo schermo speriamo che un domani portino qui a Genova anche una sala IMAX adesso invece passiamo alla terza parte della nostra puntata e cominciamo a fare auguri e omaggi ai grandi registi e adesso parliamo con Andrea del nostro conterraneo Pietro Germi Pietro Germi ricordiamo brevemente per chi non lo conoscesse si deve si deve vergognare regista genovese patrimonio locale patrimonio assoluto cittadino patrimonio locale regista sceneggiatore produttore amatissimo dai suoi contemporanei tra l'altro ricordiamo che è morto prematuramente in realtà è morto giovane a 60 anni nel 74 lui nel 1914 è morto a 60 anni purtroppo ricordiamo appunto l'ultimo film Amici miei che stava preparando con Siaco Monicelli che ricordiamo potete andare a recuperare le interviste su Youtube come sempre noi ricordiamo andate a vedere i retroscena le interviste perché c'è del materiale pazzesco che continua a venire fuori e sempre verrà fuori una cosa che fino a dieci anni fa era impossibile da poter vedere se io voglio vederla adesso lo posso fare e il retroscena di questi film di questo film come Amici miei è veramente un pezzo di storia italiana e comunque Pietro Germi non è importante solo per questo film ovviamente anzi è stato comunque un po' il maestro è riconosciuto un po' come il padre dei suoi contemporanei un uomo col sigaro in bocca tra l'altro è stato una figura sensazionale del cinema italiano sei già senza parole sì perché quando penso a Germi mi vengono in mente tantissime sfumature di un autore così completo mi viene da dire lo dico lo dico è stato il nostro John Ford perlomeno è nato come il nostro John Ford perché non con così tanti film purtroppo no pochissimi film 18-20 film mi sembra veramente pochi ma se noi pensiamo alla carriera iniziale di Germi quella che oggi si ricorda colpevolmente un po' meno è un cinema che è costellato di film di genere è una produzione che flirta con il noir con il poliziesco con il western è davvero un tipo di cinema che nell'Italia del neorealismo non trovava quasi spazio tant'è che sì è vero è stato molto amato ma è stato anche molto avversato soprattutto dalla sinistra parlamentare lui socialdemocratico ha passato tutta la sua carriera a fare imbestialire il PCI ma tornando agli esordi noi pensiamo a film dopo la sua gavetta come assistente di Blasetti pensiamo all'esordio del testimone che è a tutti gli effetti un piccolo noir ed è girato proprio in un momento in cui in America il noir andava per la maggiore gioventù perduta che è fondamentalmente un poliziesco ma forse il film che lo consacra fra i grandi è Il nome della legge che è fondamentalmente sfida infernale in Sicilia è un western di Ford in Sicilia con la mafia al posto dei banditi è un film che come immaginario davvero respira quello di Ford ma non è come magari ai tempi di oggi in cui si parla di rinascita del cinema italiano di generi di questa specie di imitazione dei canoni americani con tantissimi anni di ritardo questi sono proprio film estremamente intrisi di immaginario italiano recuperano la struttura del cinema hollywoodiano ma sono profondamente italiani Il Cammino della Speranza Il Cammino della Speranza è un film meraviglioso attualissimo sull'immigrazione in questo caso oggi sarebbe fatto magari dal Nord Africa all'Italia ma allora era il Sud Italia e il Nord il resto d'Europa un film che può quasi competere con il furore di Steinbeck e di Ford come immaginano e lì appunto torniamo a Ford Il Brigante di Tacca del Lupo che è fondamentalmente un altro western Gelosia che altro non è che il Marchese di Roccaverdina quindi K e Spada Ottocente insomma questo tipo di cose qua e poi appunto c'è il Jeremy che invece conosciamo tutti quello un po' più popolaresco che comunque anzi forse a livello qualitativo è probabilmente superiore c'è una maturità c'è una differenza esattamente c'è stata una forte maturità dal punto di vista ricordiamo che i primi film comunque li ha girati che aveva 32-33 anni esatto esatto aveva già un'esperienza comunque come sceneggiatore e come aiuto regista di Blasetti esattamente l'exploalo si ha con il ferroviere che in un certo senso si riallaccia a quella realtà neorealistica che lui aveva sempre schivato stando appunto più vicino al cinema di genere che non al cinema sociale di denuncia comunque quello che aderiva ai canoni del cinema terreno dell'epoca effettivamente è una delle ultime grandi pellicole neorealiste con una sua grandissima interpretazione lui era stato per diverse volte attore dei suoi dei suoi film fino alla paralisi facciale che poi gli impedì di proseguire ma altrimenti ricordiamo anche in Un maledetto imbroglio film strepitoso il poliziesco più bello del cinema terreno probabilmente che prende Gadda prende il pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda lo tradisce lo trasforma in qualcosa di completamente diverso e sancisce la nascita del poliziesco moderno in Italia non più legato ai canoni americani ma in questo caso profondamente autoctono e abbiamo appunto una maiuscola performance di Germi stesso nella parte del commissario in gravallo e successivamente poi abbiamo i film per cui lo conosciamo tutti abbiamo mancato di citare L'Uomo di Paglia che è comunque un altro grandissimo film ma poi abbiamo il periodo delle commedie la trilogia delle corna per dire divorzio all'italiana seduta abbandonata e signore e signori che sono i film che lo hanno consacrato internazionalmente ricordiamo che divorzio all'italiana è stato premiato agli oscar come miglior sceneggiatura miglior sceneggiatura originale ma era candidato anche alla regia ma non come miglior film straniero ma proprio nella categoria dei film dell'anno non so chi venne selezionato in Italia quell'anno ma non era stato selezionato lui credo come miglior film come candidato no ma quell'anno c'era un film come miglior film straniero che era appunto italiano ma noi avevamo dei film grazie anche a Carlo Ponti perché era un produttore veramente straordinario un grande promoter ricordiamo che è stato il marito della Sofia Loren se non sbaglio tra l'altro ha lanciato un sacco di attori ma è stato produttore di grandissime pellicole come produttore un po' problematico come promoter invece è stato sicuramente molto funzionale come produttore magari qualche qualche errorino grave ricordiamo Godard che come ne ha sofferto per il suo disprezzo però comunque un film divorzio all'italiana che rientra comunque nella cultura anche americana perché per loro i nostri registi sono comunque degli dei in terra sì è una trilogia che è rimasta nell'immaginario nostrano ma anche ma anche anche straniero ricordiamo signore e signori si aggiudica la palma d'oro al festival di Cannes nel 66 ed è quello che raccontandolo oggi a voce sembrerebbe quasi la trama di un cinepanettone in realtà è un film di profondissima denuncia e di una grandissima interpretazione molto spietato ma è un parto territoriale incredibile a partire da Alberto Lionello Gastone Moschin Viennalisi una generazione di attori oggi forse dimenticata perché non erano i grandi divi i grandi protagonisti del cinema dell'epoca erano diciamo più dall'albo dei comprimari però davvero un comparto assolutamente strepitoso e dopo signore e signori finisce in un certo senso la fase maggiore di Germi che andrà a spegnersi poi con film minore Serafino con Celentano Le castagne sono buone con Morandi film tutto sommato abbastanza insalvabili e poi l'omaggio in un gesto di rara generosità che Monicelli gli tributerà con amici miei progetto suo che lui è ereditato e che lui nei titoli di testa prima di qualunque titolo accredita come un film di Pietro Gessi un gesto stupendo un gesto che davvero è rimasto nella storia del cinema italiano ma non è l'unico nome che oggi andiamo a citare facciamo gli auguri velocissimi a un altro nome importante facciamo gli auguri saltando dall'altra parte del mondo al grande Bon Giunot Bon Giunot ricordiamo che Andre è patito di questo regista però devo ammettere di sì è un po' al mio debole invitiamo comunque il pubblico ad andare a recuperare la filmografia di Bon Giunot fatta la stanza della poesia che poi vedremo con Andre a fine puntata di che cosa si tratta perché ripartirà la stanza del cinema al Palazzo Ducale scusate per la gaffe di prima e adesso parleremo appunto perché la stanza del cinema era stata fatta fino al film precedente di Parasite perché era proprio in vista dell'uscita che poi abbiamo visto una pellicola pluripremiata ovunque è stato veramente una luce pazzesca di tre anni fa esatto non possiamo dilungarci molto per questioni di tempo quindi vi invitiamo a vedere sul canale YouTube della Scuola d'Arte Cinematografica la stanza che io stesso ho avuto il piacere e l'onore di realizzare a Palazzo Ducale la monografia su Bon Giunot sono tre quarti d'ora in cui ho analizzato dagli esordi fino a Parasite la carriera di Bon Giunot riprenderemo poi il 4 ottobre gli appuntamenti alla stanza del cinema ma ne parleremo meglio la prossima volta con il fiduciare il presidente del sindacato nazionale critici che gestisce questo appuntamento di cui io ho l'orgoglio di fare parte allora stiamo parlando di Massimo Marchelli ovvero il presidente del gruppo SNCCI ovvero i critici Liguri che tutti tutti i mesi per due volte al mese per due appuntamenti al mese l'ingresso è libero aperto a tutti ovviamente nei limiti delle restrizioni per il covid e parleranno sia di con approfondimenti su registi e anniversari ma soprattutto ci saranno le recensioni e gli incontri per presentare i film più belli del mese con delle pagelle che ovviamente non saranno per forza solo positive ma anzi si rimbalza anche su pellicole magari che non hanno mantenuto le promesse le aspettative e c'è ovviamente la discussione in sala perché il pubblico può avere a che fare direttamente con i critici si vi invitiamo la prima il primo appuntamento del mese sono sempre due lunedì il primo lunedì è dedicato alle uscite del mese precedente il secondo appuntamento invece è dedicato a un argomento monografico come nel mio caso quella di Bongiunò tenuta ormai ben due anni fa riprendiamo dopo un anno e mezzo di pausa dovuto al covid siamo molto eccitati siamo molto curiosi di vedere dove ci porteranno questi nove appuntamenti ma ce ne parlerà meglio il presidente Marchelli la prossima settimana e adesso ringraziamo il pubblico perché purtroppo siamo alla fine della nostra puntata io ringrazio come sempre Andrea Bosco grazie a te Ale sempre qui al mio fianco sempre caldo e carichissimo ringrazio il pubblico che è rimasto in ascolto mi raccomando restate sempre aggiornati con il nostro sito sdac.it sdac.magazine.it dove potete trovare i link anche alle scorse puntate di Radio Sdac mi raccomando aggiornate restate aggiornati anche sulle nuove uscite noi ci risentiamo la settimana prossima proprio qui su Radio Sdac Grazie a tutti